Guido Guidesi, la Liga Nord propone di riformare la vigilanza urbana, ovvero che cosa preponete? Noi abbiamo fatto una proposta di legge che è richiesta da tempo sia dai comuni che dagli agenti di polizia locale, dove equipariamo i poteri degli agenti di polizia locale ai poteri e agli stessi diritti degli agenti della polizia statale in maniera tale che possano accedere anche a tutti quei servizi di investigazione offerti dal Ministero dell'Interno e con questa proposta noi pensiamo di andare a rispondere ad un'esigenza prioritaria che è quella dei cittadini adesso e che è quella della sicurezza. Noi auspichiamo che questa proposta di legge possa avere il consenso e il supporto anche degli altri partiti senza strumentalizzazioni del caso perché pensiamo che questa possa essere una risposta diretta e concreta ai cittadini. Facciamo un esempio pratico per spiegare meglio ai cittadini? Facciamo un esempio pratico dicendo che oggi gli agenti di polizia locale non possono assolutamente andare fuori dal loro territorio di competenza, non possono girare armati fuori dal loro territorio di competenza, grazie invece a questa legge potranno farlo perché potranno inseguire i delinquenti anche fuori dal loro territorio di competenza e quando fermeranno un'autovettura dove c'è un clandestino saranno in grado immediatamente di riconoscerlo attraverso l'accesso che potranno avere ai software del Ministero dell'Interno, cosa che oggi non possono fare. Grazie.